di qualcosa di qualcosa ok ciao Kate ciao Kate sei super fantastica grazie anche tu Rebi grazie bravo dai 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 muscoli come lo sapete quest'estate non erano in America ok? fra un mese noi torneremo in America lo faremo qua solo per poco per un mese e mezzo e poi non ci direttiamo a Natale ok? ogni weekend che noi saremo qua in Italia come già quelli passati saremo in un posto diverso per l'Italia dovremo fare un aereo ogni weekend anzi due aereo ogni weekend per andare a fare degli stash di ginnastica come si chiamano gli stash di ginnastica? che brava Kate ok io due abbiamo portato una sorpresa anche per voi vedete questa maglietta che ho su? si vi piace? si oggi prendete una maglietta tutte e due del fireworks tour puoi vedere i muscoli delle braccia? yes perfetto com'è? oh yeah bellissima perfetta brava devo si sembrarti un attimo? o le veste o la coda la coda di fuoco i work fire works brava brava prova ancora? fire works prova tu fire works lo dite meglio di me la prima volta sapete cosa significa questo? fire vuol dire questo? fuoco brava fuoco 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 ok works vuol dire funziona fire works il fuoco funziona fuoco funziona per arrivare ai vostri soldi se lavorate tutti i giorni questo fuoco dentro di voi pensando a quante forte questo fuoco queste passioni fa la cinesa artistica questo fuoco brava questa la abbiamo ok potete farlo noi veniamo con voi no però oggi mette il tour si se volete possiamo mettervi nella valigia anche perché penso che siete basta da piccole si tenne il bagaglio a mano ci stai via qual è la faccia cattiva? no 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 Buongiorno Sophie Lang! Come state oggi? Noi siamo bene vero? Sì! Oggi è super giornata perché la Revy viene per la seconda volta per fare una relazione privata e la Katia ha avuto un sorpresa oggi per il suo compleanno. Quanti anni fa? Sette! Sette anni fa! Oggi facciamo un allenamento tutti e tre insieme dove li alleno io e abbiamo super super news! Siamo messi su questo tapeto che ho scoperto ha un nome molto speciale. Com'è che si chiama? Ciccione! Ciccione è questo tapeto molto bello? Ci sta per questo! Qualcuno mi ha chiamato? Ah ecco qui! Ciccione! Abbiamo super news per voi prima di cominciare questo super elemento e noi siamo venuti qui se avete visto il video Fireworks Tour 2018 sapete già che abbiamo quattro tappe prenotate per il nostro stage di ginnastica Fireworks Tour e super news è che quando siamo arrivati abbiamo avuto tanti chiamati da voi per prenotare altri stage e il resto abbiamo un totale di 9 stage in questo mese che saremo qua in Italia. Adesso vi le annuncio! Raga grandi! Grazie! Novi stage abbiamo più che raddoppiato! Ascoltate bene perché se tu vieni da una di queste città o regioni o regioni potete venire a trovarci a una delle tappe e fare parte del Losage. Dal 6 all'8 di settembre eravamo a Rossano, Calabria. Una bomba è venuto! Grazie mille Luigi dello Xen è stato un evento di tre giorni in un hotel bellissimo con tante bellissime bambine. 15 settembre eravamo a Ciampino in Lazio fantastico assolutamente divertentissimo grazie a Piero! Grande Piero! E tutta la famiglia! Saluti a tutta la famiglia! al stile Europa Ciampino! Top di gomma! Questo weekend proprio sabato saremo a Martina Franca in Puglio sarà il 22 settembre. Com'è che l'ora tu è? Puglia? E' tu Puglio! Puglia! Puglia! C'è la canzone no? Puglia! 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 Ok! Poi andremo lì a trovare la squadra Alegria dove ci sarà Consuelo. Ciao Consuelo stiamo arrivando! Ci vediamo molto presto ragazzi non vediamo l'ora. E la domenica saremo ancora a Martina Franca a fare un altro stage sempre lì in Puglia. Poi abbiamo 5 ottobre saremo in Atessa Abruzzo. 6 ottobre Sanremo Liguria. No 6 ottobre Saremo in Liguria. In Liguria. Saremo a Sanremo. Vai Kate. A Sanremo. Dove? In Liguria. Bravissime. Tanto chi le insegnerà si chi mi insegnerà in italiano. Poi giorno dopo il 7 ottobre noi saremo a Maniago in Friuli. Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia. Ottimo. Bravissime. E poi l'ultimo weekend che noi saremo qua infatti abbiamo allungato il nostro tempo qui in Italia per fare queste ultime fantastiche tappe saranno in un posto stupendo bellissimo. La Sicilia. Sicilia arriviamo. Sicilia arriviamo. Il 12 ottobre in Bageria e il 13 ottobre in Alcamo. Sempre lì vicino. C'è una Palermo. Vi aspettiamo tutti eh. Sì e ripeto se non fai parte di una di queste società potete comunque chiamare. E come sempre per qualsiasi informazione se volete venire se volete sapere qualcosa agli orari tutto alla nostra mail. Farworkstour.gmail.com e potete comunque fare parte di questi stage. Speriamo di avere tanti tanti di voi. Queste sono bellissime opportunità per noi per conoscervi e per voi per passare una bellissima giornata all'elemento con voi nella vostra città. Una cosa molto importante ragazzi. Molto super importante. Noi come sapete dall'ultimo video. Io porterò tutta la mia linea di body ai vostri stage di cinasti ok? Molto importante. Io ho chiuso la collaborazione con due le farfalle per cui il body che ho e che porterò ai stage sono gli ultimissimi body che avrò. Quindi se volete uno dei miei body scrivetemi un'email sempre a fireworkstour.gmail.com. Se venite allo stage potete prendere un body direttamente lì. Poi allo stage avremo anche queste super magliette. Venite su con me. Le sue super magliette bravissime di Fireworks Tour e anche i sacchetti della palestra per voi da comprare allo stage. Allo stage 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 stage. In più ogni bambina che fa parte dello stage avrà una coppia del mio libro una sete in verticale. Alla fine faccio una presentazione su il fuoco dentro di noi che voi spazioirà cosa significa vero? Sì. Cosa significa il fuoco? Fuoco che ci porta alla ginnastica per diventare campione. Bravissima. Molto bene questa spiegazione. Molto bene. Passione. Brava. Bravissima Revi. Ok. Siamo pronti per fare un po' di... Sì l'ultima cosa. A metà ottobre torniamo in America e non si sa quando torneremo. Quindi se volete fare altri tour con noi con tutti gli accessori a Track Italia finalmente arriveranno le buche. Forse qualcuno di voi potrà già riuscire a provarle. Con Sofia con i suoi libri, la sua presentazione motivazionale fantastica, l'allenamento insieme, le magliette, le sacchette, i body, tutto. Iniziate a scriverci per vedere come organizzarci nel 2019. Così noi prenoteremo le nostre vacanze in Italia anche in base a quando vorrete fare i tour. Ok? Super. Cosa significa ready? Bo? Bo? Così significa ready? Ready, set, go. Pronti? Sì! Dio! Questo si chiama Summons. Avete presenti Summons? non mi credi che vanno la segna io? no ok il piede sulla chiglia nera anche il ginocchio se riesce bravissima brava brava oh mio dio no baby ma che coreografia è di ginnastica artistica ma questa è la discoteca non ginnastica artistica aiuto no 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 Dovete diventare un letto di castello, tu sei il letto sotto, tu sei il letto sopra, però è importantissimo, dovete avere questa evoluzione, dentro la tona, la moda, l'occhiata, spingi su bene, spingi su, bravissime, braccia tese tutte e due, braccia tese adesso, tieni su questa posizione forti, usa la tartaruga, brava, più su, più rotonda, più rotonda, ok, brava, ce la sto bene con le braccia tese, ok, cade, e un, perfetto, non sei, braccia tese qua, infatti perché lei è molto forte, è molto facile a tenere, perché riesci a stare in questa posizione con la tartaruga, quella che uno tiene dalle gambe e l'altra cammina, non si, la... carriola! la charriola ecco! sai come aveva detto Sofia? no, il carrello, pensavo... carrello, cosa vuol dire? Il carrello è un carrello! cosa vuol dire? Ma te sei super rotondo proprio, oh, 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 pai, vai, 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 vai buonissima Madonna Caterina sei una potenza Bravissima Sei un serpente Sei un serpente Mi farai sentire le vostre ruote Ok Fai venire la foto Prima la foto Brava è super dura qua Ok Brava Brava Ancora una Wow Ho 100 dollari qua Metto Viene l'orecchio Schiacciola L'altro 100 dollari Metto su questa orecchia Quando fai la foto finale Non puoi perdere Le cose Sono giù 200 dollari Come vale Quindi fai la parte finale Vieni su And schiacciali bene Ok Così Sì Schiacciali Schiacciali Brava Dove sono le nostre bambine? Qual è stata la vostra parte preferita Dell'elemento di oggi? Ora Chi è? Ora Ah è stilzato giù Mi avete spaventato? Sì È stata la tua parte preferita E tu devi Trave 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 Le vuote O Verticale 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 Brava I love you Sophie Ciao Salutate Ciao Ultimo video Vai Ultimo video Vai Dove sono le mie bambine adesso? Dove sono andate? Non lo so Dove sono? Stop Stop Wow Stop 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 Ci vediamo al prossimo video Ci vediamo al fireworks tour Vi voglio bene Ciao Sophia Buona giornata Ciao Ciao Vai Fai il delfino Perché fai il delfino? Perché È una bottiglia Non sei tu? No Sei sicura? Sì Sai che Cristiano Riesce a fare il delfino Però Facci vedere Vai No Non sei tu?